Ieri sera Inter-Atalanta 4-0. Ormai la squadra di Simone Inzaghi vince soltanto con questo risultato. È cambiato il prefisso di Milano. 4-0-4-0. Se non erro ha vinto 4-0 ieri sera. 4-0 contro il Lecce. 4-0 contro la Salernitana. Anzi, 4-2 contro la mia Roma. Almeno noi siamo riusciti a fargli due gol. È già tanto contro questa formazione squadra club che sta letteralmente lasciando stupiti tutti noi che siamo innamorati del calcio. Una squadra che gioca a pallone, come ho detto in più di qualche video, un calcio totale dove tutti gli interpreti sono nel vivo del gioco, della manovra. Cominciano l'azione da Sommer, per dire, ma possono cominciarla anche dai laterali, dai centrali. Da direttamente in profondità con i suoi attaccanti che hanno un possesso palla, riescono a fare sponda, fanno salire la squadra. Ma questo lascia il tempo che trova e quindi rinnovo i miei complimenti alla squadra di Simone Inzaghi e cioè l'Inter. Ma volevo parlare oggi delle polemiche post-gara di Inter-Atalanta e nella fattispecie di Per Cassi, amministratore delegato dell'Atalanta. Però, ragazzi, fatevi salutare, un benvenuto a tutti dal vostro Enrico Caffarelli. Per chi non mi conoscesse, sono un appassionato di calcio, tifoso della Roma, a cui piace commentare le partite post-gara. Soprattutto quelle giocate in maniera agregia come l'Inter ieri sera contro l'Atalanta. Però, diciamo, i primi 20 minuti è anche una buona Atalanta, devo dire, devo essere onesto. Grazie a chi mi è venuto a seguire, a chi si è iscritto al canale, grazie tante a chi ha lasciato i like, a chi commenta i miei video, che io leggo sempre tutti, eh. I vostri commenti li leggo sicuramente, anche se non rispondo. E poi anche chi mi è venuto a seguire sul mio profilo Instagram, a cui lascio, insomma, qui sotto lascio la descrizione del link, almeno digitandoci sopra, potete venirmi a seguire appunto e lasciarmi qualche commento in privato, in direct, qualche messaggio, ma anche un semplice saluto. Andiamo nello specifico, ragazzi. Cosa ha detto per Cassi? C'è grande dispiacere per il risultato. Ci sono stati episodi determinanti che non abbiamo capito. Errori gravissimi da parte di arbitro e VAR. Parlo del primo gol annullato in modo incomprensibile. Come si può, nonostante le immagini, annullare un gol così? Non sono qui per aprire un dibattito, ma per esprimere il nostro pensiero. Il gol di De Keteler era valido. Al massimo ci doveva essere rigore per noi. L'altro episodio scandaloso è il rigore dato all'Inter. Nessuno allo stadio ha capito cosa stesse succedendo. Sono passati 5-6 minuti per trovare qualcosa che nessuno aveva visto. Oltretutto il Guadierini aveva alzato la bandierina. Siamo profondamente dispiaciuti. Era una partita potenzialmente bellissima che invece è stata pesantemente condizionata da episodi arbitrali. In modo dilagante che ha deciso il risultato a favore dell'Inter. Il fallo di Miranciuk non c'era. Il fallo di Miranciuk non c'era. La VAR ha creato l'effetto di poter interpretare cose oggettive. È semplicissimo. Non c'è tocco di braccio. È bastoni che tocca la palla. Non interpretiamo immagini chiarissime. Dispiace. Queste partite, complicatissime, vengono condizionate da episodi che la spostano in maniera decisiva. Allora ragazzi, io in presa diretta non avevo visto questi episodi quantomeno nella maniera in cui le ha descritte per casi. Quindi, non essendo sicuro, io quantomeno ero sicuro, però sono andato a sentire, a leggere sui siti web cosa dicesse Cesari. Diciamo che è uno dei più sicuri in fatto di Moiola e roba varia. A volte può sbagliare anche lui, per carità. Già in presa diretta, Marelli di Dazzone, perché io guardo Dazzone, non aveva pronunciato le stesse frasi di Percassi. Quindi, anche io avevo visto che gli episodi fossero giusti, corretti da parte dell'arbitro. Però, volevo levarmi una curiosità e sono andato a leggere le testuali parole, frasi di Cesari. E ha detto questo, ragazzi, Sport Mediaset. L'assistente segnala che la palla è uscita, ma dalla revisione si vede che il pallone non è uscito interamente. Giusto l'intervento del VAR, come giusto assegnare il rigore all'Inter. Quindi, secondo Cesari, il rigore dell'Inter c'era. Non è petto, non è spalla, ma non è ascella. Ma Heidebur colpisce con il braccio su cross di Dumfries. Quindi, anche per me, io ho visto che era braccio di Heidebur. Graziano Cesari commenta così il penalty concesso con il VAR ai nerazzurri. E poi sbagliato da Lautaro. Corretto, poi, non fa ripetere il rigore perché al momento della battuta di Di Marco che ha segnato non ha il piede destro appoggiato a terra e la sua proiezione in aria non conta. Bene, la valutazione anche in occasione del gol annullato all'Atalanta con De Keteler sullo 0-0. C'è il tocco di braccio di Miranchuk. Quindi, tutti i tocchi di braccio. Ragazzi, quindi, per Cassi, diciamo, è stato sbugiardato, tra virgolette. Io non so a cosa si voglia appellare. Per Cassi, per carità, lui fa gli interessi della sua Atalanta che gioca benissimo. Dopo l'Inter, l'ho detto anche nel video, insieme al Bologna, dai, ci voglio mettere anche il Bologna. L'Atalanta gioca il calcio, diciamo, migliore in questo campionato di Serie A, dopo l'Inter. Ma l'Inter, stiamo parlando di... a livello mondiale, secondo me, l'Inter gioca il calcio migliore. Uno dei calci migliori, insomma. E quindi, ieri, la squadra di Simone Inzaghi era chiamata a giocare una gara molto difficile. Vincere per 4-0 contro questa Atalanta la dice lunga. La dice lunga perché, secondo me, poteva fare anche altri gol l'Inter. Non ci scordiamo la traversa di Lautaro, il gol che si era mangiato prima. Quindi, non me ne vogliano i tifosi atalantini. Non me ne voglia per Cassi. Secondo me, ieri, l'Inter ha legittimato una vittoria, una prestazione, a dir poco, straordinaria. E come amanti del calcio non possiamo che apprezzare queste dinamiche. Ragazzi, dobbiamo essere onesti, obiettivi. Io posso capire che per Cassi magari a fine partita era un po' contrariato. Perché magari anche lui doveva vedere bene gli episodi alla Moviola. Io, in presa diretta, avevo confermato quello che aveva visto l'arbitro e il VAR. Poi, ovviamente, leggendo queste frasi sono andato a leggere Cesari. Adesso andrò a vedere anche qualche altra opinione. Però non è che posso spiattellarvele tutte in un video. No, basta una. Pure Marelli ha detto la stessa roba ad Azor. Quindi, è questo, ragazzi. Voglio il vostro commento qua sotto. Io vi auguro una buona giornata. Mi scuso se il video è venuto un po' troppo scuro, ma Roma sta diluviando. E niente, ragazzi. Vi ringrazio ancora per i like, per i commenti, per le iscrizioni. E vi auguro una buona giornata a tutti quanti voi. Ciao da Enrico Caffarelli. Grazie a tutti.